Era importante giocare con qualità, giocare con attenzione, cosa abbiamo fatto sicuramente molto meglio nei nostri avversari nel primo tempo. Chiaro che l'errore grosso che abbiamo fatto è rimetterli in partita dopo che li stavamo comunque, non dico dominando, ma comunque stavamo facendo molto meglio. Poi è chiaro che le partite erano due 90 minuti, è chiaro che il Napoli ha tante qualità, ma nel gol preso purtroppo credo che sia lì il nostro errore capitale a partite stasera, anche se poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo avuto l'occasione per andare anche sul 3-1, abbiamo avuto l'occasione per andare sul 3-2, abbiamo giocato una gran partita nel senso che abbiamo creato veramente tanto, concesso il giusto a una squadra forte, dispiace perché volevamo la vittoria e non è arrivato. Nell'ultima settimana purtroppo abbiamo portato a casa solamente un punto in campionato e una sconfitta in Champions, quindi volevamo tutti i costi di questa vittoria, e non esserci riusciti dopo un doppio vantaggio sicuramente ci dispiace, ma ci portiamo a casa tante cose positive e però altre tante cose dove possiamo fare sicuramente meglio. Siccome vogliamo essere competitivi e cercare di vincere, dobbiamo lavorare ancora tanto. Pulisci si era affaticato, già alla mezz'ora mi aveva detto che aveva flessore affaticato e quindi sarebbe stato sicuramente un grande rischio mantenere in campo, però d'accordo anche lui che era meglio fermarsi così, peccato perché stava facendo, come spesso gli capita, una grande partita. Sì, su quel fallo lì credo che sia stata, non lo so, vabbè dai, andiamo avanti. Però era una situazione molto importante e molto favorevole per noi, peccato. Io credo che continuando a giocare così, non credo che sono tante le squadre che sono venute da Napoli a creare 10 o 12 occasioni a roll come ci siamo riusciti noi. E' chiaro, rimane rammarico sicuramente per non aver vinto la partita, ma deve rimanere anche nella testa dei miei giocatori la consapevolezza che giocando come sappiamo fare, come vogliamo fare, possiamo essere di alto livello contro chiunque in campionato.